Ciao a tutti, buonasera. Questa diretta sarà una diretta molto breve, ma una diretta che ha un fine specifico, ovvero quello di ringraziare Mario Giordano e la redazione di Fuori dal Core, in particolare Nicolò, il giornalista che ha preso a cuore il caso di mia mamma, che da circa tre anni attende di essere operata per un intervento alla schiena, che ha dovuto tramite me rivolgersi a Fuori dal Core. Io ho chiamato i ragazzi della redazione, ringrazio Raffaella Regoli, l'amica Raffaella che ha girato lei, ai ragazzi della redazione in questo caso che hanno passato la palla in mano a Nicolò, bravissimo, Mario Giordano che ha accettato il caso e hanno portato ieri sera in onda su Rete4 il caso di mia mamma, che attende un intervento. attendeva un intervento da tre anni, attendeva perché ieri, perché giovedì mattina, noi perdonatemi, lunedì mattina, quando Nicolò era di fatto a Rizzoli, alle nove e mezza, dieci del mattino, mi è arrivata la telefonata da Rizzoli stesso dicendo siamo qua per fissare l'appuntamento, in verità me ne sono arrivate dieci telefonate, otto a mia mamma e due a me, dove Rizzoli ha detto siamo qui a confermare che l'otto di novembre la opereremo la mamma e tra parentesi molto strana la cosa, io dico che ogni dubbio è l'ecito, l'ho detto anche nella telefonata con Nicolò appunto in trasmissione ieri sera dicendo ogni dubbio è l'ecito perché come per miracolo è bastata vedere una telecamera e un giornalista in sede ed è scattata la voglia di fare l'intervento a mia mamma. Io voglio ringraziare, voglio ringraziare la redazione di Fuori dal Coro che è una delle poche trasmissioni, io non ho mai negato di guardarla, anzi mi piace molto, è una delle poche trasmissioni dove hanno il coraggio di difendere i cittadini, fanno quello sporco lavoro che dovrebbero fare le istituzioni, che dovrebbero fare i nostri politici, che dovrebbero fare i nostri governanti e le amministrazioni, lo fanno loro, ovvero quello di andare in giro per l'Italia cercando di salvare più gente possibile, fanno quella cosa che purtroppo in tanti non hanno il coraggio di fare, come liberare le case, non siamo in grado di liberare le case in Italia, rendetevi conto, abbiamo un apparato statale che non è in grado di liberare le case occupate dai delinquenti, non è in grado di svegliare le strutture sanitarie e direi ragazzi svegliatevi, dovete operare la gente, le liste d'attesa sono troppe lunghe, non è in grado di fare praticamente nulla di quello che serve. Adesso anche con i fiumi ovviamente si sta impegnando con le opere che dovrebbero servire per tutelare il territorio in Emilia Romagna, fuori dal coro, stanno andando giù pesantemente. Vabbè, detto questo, grande Mario Giordano, ti ringrazio Mario, ti offrirò una cera, quando vorrai venire a Modena sarai ospite e mio ospite, assolutamente ti potrò mangiare dei piatti buonissimi, tipici nostri, la Raffaella l'ho già invitata, l'amica Raffaella, più volte, anche il mio matrimonio, per farvi capire, quindi ho un rapporto molto bello con la redazione, sono bravi ragazzi, tutti, Nicola è stato il numero uno, numero uno, veramente bravo, serio, ha riportato esattamente quello che ha detto mia mamma, non ha fatto vedere nulla di più, nulla di meno, ha fatto vedere le cose come sono, che mia mamma, donna molto forte, molto educata, purtroppo si sveglia la mattina, delle volte col pensiero di dire vorrei non svegliarmi per il male che ho addosso. Questo ha scaturito in me una reazione tale che ho chiamato subito Raffaella Regoli, che ringrazio nuovamente Raffa, ti voglio bene, lo sai, ha scatenato in me questa reazione dove mi sono affidato alle telecamere di Mediaset, io sono restivo a utilizzare telecamere per i miei servizi, li faccio sui social, per i cavoli miei, non ho mai accettato di lavorare per gli altri, non mi sono mai proposto direttamente in tv, perché mi piace farlo con voi sui social. Però in questo caso ho detto, vabbè, proviamo a svegliare gli animi, ho notato che la tv ha una potenza incredibile, è un media che effettivamente è molto molto potente, molto più dei social, anche se tutto è partito da una mia diretta per poi arrivare in tv, però è tutto in verità è partito grazie appunto a questi amici che ho in Mediaset, in questo caso a fuori dal coro, quindi non tutta Mediaset, parlo di fuori dal coro, parlo di Mario Giordano, a quale mando un bel bacio, si è invitato a cena, l'amica Raffaella Regoli, che per me è come una sorella, che l'ho combattuto in questi anni insieme a noi per tutte le nostre battaglie, tanto che ho fatto io la copertina del libro di Raffaella a sospesa, amici, vi ringrazio di cuore, lo dico a Nicolò, quando tornerai a Modena perché ti passerò dei servizi pesanti e sarò curioso di vedere cosa combinerai, ma detto questo sei invitato a cena in una delle mie serate, vi invito tutta la redazione di fuori dal coro, in una serata fuori dal coro dove potremo fare una mega festa, questa è la proposta che vi lancio, perché vi voglio bene, mia mamma farà l'intervento, è nata oggi, siamo stati oggi dalle 6 del mattino fino adesso a Rizzoli, bravissimi medici, attenzione, premetto, Rizzoli, bravissimi medici, molto seri, molto competenti, purtroppo a livello organizzativo sono saturi di prenotazioni, sono saturi di gente in lista, il problema è italiano, è diffuso su tutta Italia e anche le strutture importanti come Rizzoli ci rimettono, ci rimettono perché si trovano saturate da gente che vorrebbe l'intervento, solo che sono veramente troppi, siamo arrivati a un punto a mio parere in Italia di non ritorno se non ci poniamo subito un rimedio e anche velocemente. Vabbè, basta, chiudo, vado a preparare la cena come al solito, vi voglio bene, sono molto stanco perché ho fatto veramente 12 ore a Rizzoli, oggi sono stati educatissimi e gentilissimi, i medici, a prescindere dal servizio, non sapevano presumo molti di questi nulla, oppure lo sapevano, non mi interessa, mia mamma è rincuorata perché farà l'intervento, anche se sarà un intervento difficilissimo e durissimo, però faticoso per lei e che dire, grazie di cuore, vi benedico, vi voglio bene, grazie Gesù che mi ha fatto incontrare Raffaella che ha spinto per fuori dal coro, grazie a Mario che ha accettato, grazie a Nicolò che è stato un grande giornalista e ha veramente dimostrato di avere due palle quadrate, soprattutto di correre forte. Ciao a tutti, vi voglio bene, buona serata.